Una giornata non particolarmente affosa, fatto da cornici al cimitero di Vittoria dall'inaugurazione della Cappella Ungherese, retta 90 anni fa e recentemente restaurata. Presente il sindaco Moscato, giunta municipale, ministro della difesa ungherese, unitamente ad altri funzionari maggiari e autorità militari, civili e religiose della città, dopo i saluti istituzionali, la benedizione della cappella, a seguire la deposizione di corona e lo spargimento di terra ungherese sulle tomba dei caduti. Successivamente la delegazione si è trasferita in Piazza del Popolo per onorare il monumento ai caduti. 90 anni alla fondazione di questa cappella che è stata adesso restaurata da pochissimo e il ministero della difesa ungherese ha voluto ricordare i propri caduti nella nostra patria per ricordare anche che a Vittoria c'era il più grande campo di concentramento del sud della Prima Guerra Mondiale, ma ricordare anche però lo spirito di amicizia che c'era fra i prigionieri ungheresi e i vittoriesi, perché si sono sempre rispettati con grande onore, così come è giusto che sia in qualsiasi guerra sia prima uomini che prigionieri o soldati. Per me è stato un piacere poter ospitare la delegazione ungherese che ha voluto fortemente rinforzare ancora di più i rapporti diplomatici che ci sono fra le due nazioni e fra l'Ungheria e la città di Vittoria. Quindi per noi è stato veramente un onore poter ospitare tutti, dal ministro della difesa, al colonnello Covax, al sindaco di Mataz, con quale siamo gemellati. Un onore per la città di Vittoria, un onore immagino per loro e per ricordare ancora di più che questa cappella comunque è un simbolo di pace e amicizia tra i due popoli. Questa è una testimonianza dell'amore e dell'amicizia delle due nazioni. Anche se nella Prima Guerra Mondiale eravamo nemici da parte dell'Italia e dall'altra parte nella monarchia austro-ungherica, però possiamo andare avanti, non dimenticando, però portando avanti questo amore e conservare i seppolkri e le tombe dei prigionieri caduti militari sia in Ungria che in Italia.